Cambia aria, cambia stile, cambia luogo. Adiecenti al villaggio Calaghena, dotato di impianti sportivi, villette residenziali a schiera di diversa tipologia, si affittano tutto l'anno a prezzi assolutamente competitivi. Monolocali, bilocali, duplex, trilocali e suite. Completamente ristrutturate, con nuovi spazi interni luminosi, superaccessoriate, con balcone e terrazzo, giardino, parcheggio riservato. E durante il periodo estivo, sono assicurati tutti gli altri servizi dell'hotel Villaggio Calaghena, con un comodo servizio di collegamento. A 5 minuti da Soverato, 15 da Germaneto e 40 dalla mezza terme. Residenza Azzurro Calaghena, un nuovo modo di vivere e di trascorrere le proprie vacanze.